e estetista cinica contro Eli Schlein. C'è una brava militante del PD, del Partito Democratico, che è conosciuta come estetista cinica, la quale non è contenta che Eli Schlein sia diventata segretaria del PD. Guardate che io, Serafino Massoni, che sono questo signore qua, vedete chi sono, io ipotesi non fingo. La notizia, la potente notizia, la potente notizia l'ho letta su... il giornale, che è un quotidiano milanese a tettatura nazionale. Allora, estetista cinica, è bella, sei bellina, estetista cinica. Allora, ecco qua, titolata Si rischia lo shitstorm, l'estetista cinica a gamba tesa sulla schlein. Dice che si rischia lo shitstorm. Guardate, io non traduco la parola perché è una brutta parola, eh, shitstorm. Beh, l'estetista cinica ha dato il suo voto a Stefano Bonaccini, però le femministe radicali vanno all'attacco contro questa estetista cinica. L'articolo è di Francesca Galici, il giornale, 28 febbraio 2023. Vediamo. Sei bella, estetista cinica, sei bellina, bellina, cara. Allora, c'è scritto qua, Ellie Schlein ha vinto le primarie del PD senza il voto degli iscritti al PD. Un dato che dovrebbe far riflettere chi oggi esulta per la nuova segretaria del Partito Democratico. Democratico, et cetera. Dunque, questa estetista cinica ha il nome di Cristiana Fogazzi, Fogazzi, conosciuta come estetista cinica, imprenditrice di successo nel settore del beauty, che con un post sui social ha fatto il suo endorsement a Stefano Bonaccini. Il fatto è che questa estetista cinica, questa Cristiana Fogazzi, dice che lei preferisce Stefano Bonaccini anche perché Stefano Bonaccini avrebbe una certa posizione sull'Ucraina. avrebbe una certa posizione sull'Ucraina. Ecco qua. Perché viene chiesto a questa estetista cinica perché stai dalla parte di Stefano Bonaccini e lei risponde perché ha una posizione che condivido sull'Ucraina. va bene? Perché Stefano Bonaccini ha una posizione che io, estetista cinica, condivido sull'Ucraina. Beh, allora io sono voluto andare a vedere che posizione ha Stefano Bonaccini sull'Ucraina perché da quello che dice questa estetista cinica Stefano Bonaccini sull'Ucraina avrebbe una posizione diversa da Elie Schlein. Che è Elie Schlein? È tutta a favore dell'Ucraina contro la Russia. Allora io vado a vedere. Io mi informo. Io ipotesi non fingo. Vediamo un po'. Vediamo un po' che razza di posizione c'è Stefano Bonaccini. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora Stefano Bonaccini. Stefano Bonaccini. Ucraina. Aska News. Aska News. 13 gennaio 2023. Bonaccini. Sostengo Kiev ma è il tempo di costruire la pace. Sostiene Kiev come Elie Schlein. Poi se divento segretario del PD vado a Kiev. Ha capito? Va a Kiev. Allora eccolo qua. L'Ucraina va sostenuta perché c'è un paese invaso e un invasore. ma ora è il tempo di costruire la pace. Poi aggiunge Bonaccini una giornalista mi ha chiesto se andrò a Kiev nel caso diventassi segretario del PD. Ho risposto di sì perché c'è un paese invaso e un paese invasore ma ora è il tempo di pace. Beh dov'è? dov'è? Cara estetista cinica ma dov'è la differenza sull'Ucraina tra Stefano Bonaccini e Elie Schlein? Dov'è la differenza? Sono tutte e due filo Ucraina. Tutte e due filo Ucraina. Come Giorgia Meloni. Dov'è la differenza? Anche Giorgia Meloni è filo Ucraina. Allora dov'è la differenza? dov'è? Dimmi dimmi dove sta la differenza perché dici che preferisci votare per Stefano Bonaccini per quale motivo? Eh dov'è la differenza? Eh cara cara estetista cinica sei bellina sei bellina sei bellina cara ma ma non c'è motivo eh io io penso cara estetista cinica scusami scusami se lo dico scusami se lo dico eh è che sei invidiosa sei invidiosa eh sì sei invidiosa sei sei invidiosa che segretaria del PD sia diventata Elie Schlein non è? I fratelli d'Italia non c'hanno forse Giorgia Meloni che è diventata che è diventata capo del governo beh è il momento delle donne è il momento delle donne adesso il partito democratico c'ha come segretaria Elie Schlein sia Stefano Bonaccini di Elie Schlein sull'Ucraina hanno la stessa posizione cioè una posizione sbagliata è estetista cinica la conosci questa qua è estetista cinica questa è la stella di Davide è lo Stato di Israele è estetista cinica ma lo sai che lo Stato di Israele dove abitano 7-8 milioni di ebrei lo Stato di Israele non ha mai mandato armi all'Ucraina non ha mai mandato armi all'Ucraina mai mai e mai ci sarà un motivo no? se lo Stato di Israele dove abitano 7-8 milioni di ebrei non ha mai mandato armi all'Ucraina e mai le manderà le armi all'Ucraina è estetista cinica te lo sei mai chiesto? lo sai estetista cinica che ho dedicato tanti video a Elie Schlein e ho detto a Elie Schlein che bella brava e buona Elie Schlein che sia chiaro sarà un'ottima segretaria del PD ottima 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 e però Elie Schlein deve cambiare atteggiamento sull'Ucraina per lo stesso motivo per il quale lo Stato di Israele non ha mai mandato non manda mai mandare armi all'Ucraina estetista cinica sai la stella di Dario Stato di Israele lo sai che gli ebrei hanno conosciuto la Shoah hanno conosciuto la Shoah dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei europei mandati nei lager poi nei campi di concentramento nei lager nelle camere di casa e poi lassù nei forni crematori però loro che hanno avuto la Shoah lo sanno che in Ucraina diciamo che c'è un po' di ammirazione per la Croce Uncinata estetista cinica lo sai che in Ucraina c'è un po' di ammirazione per la Croce Uncinata te lo ricordi cosa è stato il battaglione Azov beh insomma senti estetista cinica dai letta a me estetista cinica lasciamolo perdere Stefano Bonaccini che è una brava persona però era meglio se faceva il parroco di campagna lasciamolo perdere Stefano Bonaccini non è all'altezza di rimettere in sesto il Partito Democratico è l'Ishine Slee però è l'Ishine deve seguire i consigli di Serafino Massoni deve ispirarsi al comportamento dello Stato di Israele il quale Stato di Israele non l'ha mai mandato non manda e mai manderà l'Ucraina e fa bene lo Stato di Israele fa bene fa bene fa bene perché se l'Occidente una volta definì l'Urs quando ancora c'era l'Urs definì l'Urs l'impero del mare ora la la federazione russa che è sorta dopo dopo l'Urs la federazione russa tramite Vladimir Putin ha definito l'Occidente l'impero della menzogna l'impero della menzogna va bene estetista cinica cara io te voglio bene cara perché io sono un uomo buono estetista cinica guarda chi sono e sono questo qua estetista cinica cara se tu estetista cinica mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale io Seraphino Marsoni che sono una persona buona ti farò pervenire questo mio ultimo romanzo estetista cinica guarda la cometa dell'imperatore un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo dedicato all'imperatore Federico II di Sveglia che fu imperatore del sacro impero romano germanico ok estetista cinica ok quotidiano il giornale anche a te quotidiano il giornale se mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale io Seraphino Marsoni anche a te quotidiano il giornale ti farò pervenire una copia di questo mio romanzo guarda che sta in tutte le librerie sta in tutte le librerie affinché tu quotidiano il giornale lo possa recensire nelle tue pagine culturali ok estetista cinica a te e a tutti voi cari amici che mi state ascoltando tanti cari saluti da la la